Siamo 30 secondi prima. Siamo 30 secondi prima. Devo alzarlo un po'. Va bene così. Deve stare attaccato. Lo stacco un po'. Siamo 30 secondi prima. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo. Andiamo. Non l'ha già fatta. L'ha già fatta la presentazione. Provariamo il tettino. Quintettino confermato? Sì, lo solito sì. 9, 10, 11, 15. 9, 10, 11. No, l'11 no. Si si ve in campo? No, no. Si si ve? No, si è seduto. Ok. Furlani sconfermato. Castelluccia. Amanti della Palla Spicchi, buonasera e benvenuti alla Palla CBL per l'esordio casaligo della Vivigas Costa Volpino contro l'Use Eppoli. qui oggi con voi Joe Manfrini accompagnato per le analisi tecniche e gli approfondimenti vari eventuali del coach Francesco Ferrelli. Buongiorno e buonasera a tutti, buona domenica. Prima partita in casa di Serie B per quest'anno per la Costa Volpino. Buona partita a tutti. Ecco, siamo pronti per la prima palla due. Abbiamo il quintetto del Costa Volpino che è confermato con la presenza di Guerci come capitano che andrà a saltare. Furlanis, Trachi come play, Castelluccia e Poloneara. Quintetto che è stato molto rinnovato quest'anno da parte della Costa Volpino. Ed eccoci. Vediamo Trachi, passa a Furlanis, esce dai blocchi. Ancora Trachi che si prende questo tiro che finisce sul primo ferro e finisce direttamente fuori. Mentre l'Use Eppoli che va alla rimessa con Bartolucci. E il play è Mariotti che ora conduce questo primo attacco contro la Vivigas. si schiaccia in post passo, palleggia, movimento, niente. Non ce la fa, una buona difesa di Guerci che impedisce il tiro al pivot avversario. Ancora Trachi che comanda il gioco, attacchia ancora per il momento un po' lenti, ecco si smarca benissimo da solo. Poloneara che riceve l'assist perfetto del play Trachi. Ecco si prende questo tiro, non va, ancora un ribalzo di Guerci e ancora pallone a Trachi. Una prima valutazione su questi primi minuti di gioco, coach. Guarda, è su questo secondo canestro del Costa Volpino. Il tifo è assordante, ci vuole assolutamente. La tifoseria si farà sentire tutta la partita e siamo molto contenti di questo. Non importa se ci disturberanno il commento. Ti devo dire che la chiave tattica di mettere in difficoltà il difensore, il playmaker, Trachi con dei blocchi, dei loro lunghi, vedremo se saranno pick and roll o altre soluzioni tattiche, è confermata dalla primissima azione. Ma Costa Volpino non si è fatto intimorire, la difesa è molto buona, si cercano subito Trachi e Guerci e Furlanis raccoglie molto più di tiri. Ecco, diciamo, c'è il primo fallo fischiato a Trachi. Sulla penetrazione di Mariotti, che comunque è da tenere osservato, perché comunque ha una media stagionale di 12 punti circa a stagione. Quindi c'è la rimessa offensiva per l'Empoli, che vorrei ricordare è una società storica che è nata negli anni 30 come società sportiva, faceva tattica leggera, poi negli ultimi 50 anni ha iniziato a fare solo basket. È già da 4-5 anni che gioca nella Serie B ed è costituita fondamentalmente da giocatori che arrivano dal vivaio, per cui è stato dato largo impiego alle giovanili, arricchite da una serie di giocatori di esperienza. Sì, è un po' il light motive di questi ultimi anni, soprattutto quest'anno, come poi vedremo magari nel corso della partita, soprattutto in questa categoria si deve per forza dar largo ai giovani. Siamo anche molto contenti di questo e personalmente approvo e spingerei moltissimo. Vediamo se sarà una soluzione che porterà dei buoni frutti o se invece dipende solo e unicamente da questioni economiche. Spero proprio che non sia così. Sì, infatti, ecco Polonara, bellissimo, bellissimo movimento con Marco Guerci che si è chiacciato in post basso e per la penetrazione di Polonara ha servito un assist. Perfetto, Marco Lucid è, diciamo, il pivot di riferimento delle Epoli che se la vedrà con Marco Guerci. Vediamo ancora Marco Guerci spingiacciato in post, forza l'entrata Furlanis, vediamo se si svita. Eccolo qua, il movimento di Guerci, peccato, si stampa sul primo ferro ed esce. Diciamo che quest'anno il roster del Costa Volpino, niente, subiamo un po', il Costa Volpino sta subendo un po' sotto canestro, diciamo, perché sono già due ribalti che vengono rubati da Barcolucci che concretizza due appoggi facili. Naturalmente bisogna pagare qualcosa alla classe di certi giocatori, però mi sembra, devo capire, il Guerci mette subito a posto le cose come lui sa fare, bisogna capire se i nostri lunghi stanno cedendo qualcosa, lasciando qualche lob di troppo per una questione tattica, per evitare che la coperta sia troppo corta davanti. Molto buono tra chi, ottima difesa, così com'è. Molto buono tra chi, siamo a cinque minuti giocati, il punteggio ormai è 8 a 6 per il Costa Volpino, si prende questo tiro di ignoranza direi un po'. Piace anche questo a noi, soprattutto quando entra, insomma, voleva anche, così, rendere un po' di confidenza con il canestro oggi tra chi avrà sicuramente possibilità. Ottima difesa da parte di Costa Volpino stavolta, ottima. Ecco, vediamo il Tralca che adesso coordina l'azione di attacco. Ricordiamo che questo Volpino si è arricchito di due, di molti elementi, il suo roster, si è arricchito dall'apporto di due giocatori che militavano nell'Iseo, uno appunto è Furlanis e l'altro è Karamatti che è proprio un rivaglio dell'Iseo Basket, che diciamo, come dicevamo prima, è una società che ha fatto una scelta diversa, che ha deciso di investire sui giovani, per cui non ha più iscritto la squadra in serie B, ma è ripartita dalla promozione investendo sui giovani. E questo vuol dire molto, l'Iseo ha lavorato molto bene in questi ultimi anni, e non devo certo essere io a dirlo, e continua, e questa è la cosa molto positiva, continua a lavorare molto bene sul vivaio, adesso ha prestato i due giocatori, prestato, lo metto tra virgolette, a Costa Volpino, perché è all'interno di un progetto e sono sicuro che li rivedremo presto anche su sponda la costa bresciana. Ecco, diciamo che anche nel girone qua, nel girone di Costa Volpino, ci sono società che hanno investito sui giovani, tipo la San Giorgese, che si presenta con una squadra quasi esclusivamente di prodotti del vivaio. Ma ora passiamo alla telecronica, sono passati sei minuti dall'inizio, il punteggio è un po' bloccato, sull'8 a 6 da un paio di minuti, e ci pensa Bartolucci con la tripla, evidentemente è un tiro quello che è stato deciso di lasciare. Sì, sì, Gio, ti confermo, come mi dicevi all'inizio della partita, questa sarà una chiave tattica che rivedremo spesso durante la partita. Certo è che Bartolucci ha cominciato con la mano bollente, quindi, non so, sarà problematico lasciargli questa soluzione. Oh, 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 bellissimo passaggio l'off ancora per Bartolucci, che ha superato Polonar, ha cercato di raddoppiare Tracca, ma ha commesso falla, quindi Bartolucci andrà in lunetta per il primo tiro volumere supplementare. Mi senti? Bartolucci dà una linea di carità, sacca solo rete per il suo tiro. Qui dobbiamo Tracca, Furlanis che esce dai blocchi, esce, la palla prende l'iniziativa, ecco, cerca di penetrare, si schiazza Guersi in post basso, vediamo, questa volta si svita a sinistra, più troppo è già secondo che sbaglia e non è una buona notizia, perché generalmente da quella posizione lì è un kill. Ricordiamo che anche l'anno scorso Marco Guersi ha avuto una media realizzativa di 15 punti a partita. Fallo fischiato a Furlanis, adesso entra in campo Caramatti. Vieni, obbligato a questa scelta, dal secondo fallo di Furlanis, entra Caramatti, vediamo anche difensivamente che cosa potrà regalarci. Sì, perché diciamo che sotto il nostro volpino ha subito un po' i rimbazzi in attacco, le penetrazioni soprattutto. Vediamo se Caramatti, come dicevo prima, è un prodotto lì, se saprà dare anche difensivamente un apporto maggiore. Sì, sì, Furlanis non si è risparmiato, ha dovuto spendere due falli, ma comunque. Caramatti ha una freschezza asmetica non indifferente, si è già mosso bene al corredo, carla palla, ha subito fallo. La rimessa dal fondo decisamente perimetrale. Molto ben lavorata la palla, la Costa Volpino, in questa azione. Non si sa se va all'isolamento, se prende il tiro, ma ahimè. Siamo un po' forzatissimo, i secondi ormai stavano per scadere. Intercetto di Polonara. Pensiamo che il Corso Volpino ha un po' di difficoltà in attacco, diciamo. C'è una certa sterilità offensiva. Sì, beh, le occasioni non sono nemmeno mancate, devo dirti io. Secondo me, se rimaniamo così concentrati, fino a vicino al canestro, andrà sicuramente meglio, le percentuali si raddrizzeranno. Ecco, l'ennesimo, purtroppo, rimbalzo conquistato da Ramazzani, che l'anno scorso è stato uno dei migliori rimbalzisti, è stato il primo rimbalzista della Serie B e l'ha dimostrato ancora una volta. L'entrazione di Fracchi, Tirello dalla media di Guersi, nulla di fatto. Diciamo che il Corso Volpino, anche nella partita di andata, ha perso lì a retta di 30 punti, però il dato che stupisce i piedi di Guersi sono i 95 canestri subiti che per le squadre di Coach Gabrielli sono una rarità, come lui costruisce le partite, soprattutto nella difesa. Adesso ci vuole parlare sopra, dopo questo parziale, praticamente erano a 6, di 12 a 0 per l'Empoli. Ricordiamo che l'Empoli è una squadra ostica che già da parecchi anni milita nella Serie B e che nella prima partita di campionato ha battuto la Eagles Bologna. Ebbene sì! Vorrei ricordarti la Eagles Bologna che è lo zano che due settimane fa, tre, ha fatto la scissione ed è stato scritto come Eagles Bologna. Ma è una squadra che fa riferimento alla fortitudine Bologna. La squadra, penso che tu conosci, che ti piace parecchio. Fortitudine che io tifavo moltissimo in gioventù, mi auguro che possa tornare ai suoi livelli, magari non a partire dalla prossima giornata di campionato, da quella dopo. Intanto un'ottima penetrazione centrale di Furlanis che va a appoggiare di sottomano per il 10 a 18, quindi viene interrotto questo primo break. Ecco la novità principale che è stato appunto rientrato. E attenzione, un ottimo sfondamento guadagnato da Castelluccia che finalmente si fa vedere, Castelluccia deve assolutamente entrare in partita. Esatto, infatti è un giocatore importante per il Costa Volpino che questo oggi, come hai sottolineato, finora è rimasto un po' in ombra. Quindi rimessa per il Costa Volpino. Vediamo adesso... Ah, ma quello è mio figlio. L'ha detto ad asciugare l'acqua. Si comincia da lì. E si inizia da lì. Poi si inizia la scalata verso gli antivertici. Naturalmente come io e te abbiamo iniziato così. Ai ai ai, brutta palla persa. Tutta palla persa, attenzione Gio. Ecco, il fallo è stato frisciato a Caramatti ma il salo è stata una brutta palla persa sulla rimessa. Il coach Gabrielli non sarà sicuramente contento. Ai ai ai, no? Ai ai ai, no? Mi sa che manderà a pulire il campo altre. Andiamo al secondo tiro libero. Va dentro. Ottima percentuale dalla lunetta degli ospiti. Empoli sta punendo qualsiasi intervento difensivo tantissimo. Quindi abbiamo Trakka in possesso di palla. Si fa vedere Caramatti. Si schiaccia. Qual è la palla? Guersi non viene servito. Ma ci sono delle grosse difficoltà in attacco. diciamo, l'Empoli molto aggressivo in difesa. Buona rotazione di palla per la tricola di Caramatti. Molto bene. Ottima circolazione di palla. Bellissimo penetra scarica. Io penso proprio che dovranno continuare con questo tipo di intensità. L'anticipo di Caramatti rischioso. Non punito. E finalmente riusciamo a chiudere la difesa. Ecco Trakka che si butta. Penetra scarica ancora per Caramatti. Ma questa volta è un airball. Ma c'è Polonara. Che risolve conquistando il ribalzo appoggiando il semi gancio. Quindi siamo sul 15 a 20 per il Quartavolpino. Quando mancano 40 secondi al termine del primo quarto. Ecco. Un po' il tiro preso così, fuori ritmo. Fuori dagli schemi. Questo non si può che favorire. Quindi abbiamo la possibilità quasi di chiudere il primo tempo con questo attacco. Anche se la differenza tra il tempo e i 24 secondi è di circa. Molto bene. Finalmente anche Trakki si è innescato. Ha segnato Trakka da 2. Blocco di blocco. 3 secondi. Via. Brutta palla. Niente da fare. Si conclude il primo quarto. 17 a 20. Molto molto bene. Non mi accorgo ogni tanto. Parlo e poi mi interrompo perché stavi parlando tutto. Siete perché? Anche perché non riusciamo a duettare. È un problema. Peccato perché dovremmo... Vabbè. Come va? Viene? Vediamo. Sì, a me sembra che qua bisogna fermare i lunghi. Diciamo che l'assa è un po' quello. I lunghi da fermare assolutamente. Però di falli non ne ha. Se Guerci comincia a giocare, dai che ci siamo. Mi sembra che manchi un leader. Manca il leader. Finché Guerci non segna... C'è margine di miglioramento. Ecco, inizia ora il secondo quarto. Il primo si è concluso 17 a 20. in favore dell'Empoli. Quindi abbiamo la rimessa in attacco. Delle Empoli appunto. Abbiamo vinto la palla a due. Quindi Empoli adesso batterà la rimessa. Formazioni. Nel momento la panchina è poco utilizzata. Vediamo un po'. Ecco, dicevo prima del Costa Volpino che ha rivisto molto il suo roster dell'anno scorso che ha conquistato la promozione sul campo battendo il Cremona. Infatti le cessioni hanno riguardato Muzio che era il pre-titorale che è andato a Orzinuoli, Giovannelli che è andato a Monticelli, Colonnelli, Benevelli e Roberti. Quindi un quintetto che è stato completamente rinnovato. Mentre c'è ancora una penetrazione di Bertolucci che a quanto pare il coach non è ancora riuscito a trovare un correttivo perché da sotto veramente sta un po' dominando l'area. Sì, sì, si è messo anche in proprio. Attenzione, bellissimo pallone per Guelci che finalmente si sblocca. Dovrebbe essere sul secondo canestro e speriamo non sia l'ultimo. Esatto, un'ottima penetrazione di Furlanis che ha scaricato per Guelci che era postato in post basso per il suo comito lay-up. Karamati cerca di contenere la penetrazione di Manetti ma commette fallo per cui gli viene fischiato il secondo fallo. Difesa oltre il limite solo per l'ambito secondo me. Sì, ma come dice il coach Dan Peterson l'importante è quello che fai vedere e non è tanto il fallo che fai ma è quello che... E se l'ha detto lui io ci credo. Esatto, perché non sappiamo che per noi è un idolo. Ecco. Adesso viene cambiato Guelci per Baroni Baroni sappiamo che è un prodotto del bivaio qua di Costa Volpino. Alcino libero. Manetti non sbaglia diciamo che hanno tirato con buona percentuale liberi finora. Penso che siamo al 100%. Vorrei vedere le statistiche ma mi sa che hai ragione ahimè. Uniscono severamente come ti dicevo prima i nostri interventi difensivi. Qui il metro arbitrale sarà importante. Ecco, quindi è uscito in questo momento Manetti ed è rientrato Gizzani che è un'ala forte. Adesso Polonara fuori per Baroni la palla circola velocemente penetrazione di Fulani che cerca la linea di fondo. Ahimè. Un po' forzata. Un po' forzata, sì, sì. Ma d'altro mondo ormai il tempo stava per scadere il tiro andava preso. Interessante la marcatura di Gelli su Polonara un playguardia su un'ala pivot attenzione attenzione a un infortunio. Un piccolo infortunio a Fulanis che io non ho visto cosa sia successo. Con luttazione in fase di gioco. Sembra che ci sia stato un contatto durante la fase di gioco. Si rialza intervengono i sanitari speriamo ovviamente come si dice in questi casi non sia di grave. Che possa riprendersi ma esce con le sue gambe. Ecco mentre a posto di Fulani si entra buon tempi. E a questo punto la panchina diciamo che è stata pescata a piene mani. Vediamo ci stavo dicendo prima di questo episodio la marcatura di Gelli su Polonara interessante. Vorrei vedere se Empoli propone stabilmente questa situazione e se sarà il caso di sfruttarla insomma per questo polpino. Ottimo penetra scarica di nuovo si prende Castelluce al tiro ma è un airball clamoroso. Allora quindi c'è stata la sostituzione di Fulani per buon tempi che io me lo ricordo l'anno scorso era un giocatore con una capigliatura rigogliosa. Oggi ci mettiamo a zona. Eccoci qua. Scusa ma oggi si ha cambiato decisamente proprio chiere. Esattamente assomiglia un po' a un look da Lebron Lebron James ben fasciato ecco tutti parlano di Kobe Bryant a Bologna a Bologna e noi abbiamo Lebron James direi che quindi la zona è passata a zona il coach però è stata subito punita si si sono l'Empoli molto chiusa Polonare attenta a questo semigancio che però non va a buon fine Marto Lucci finta il tiro Ragazzani forza la penetrazione e trova il fallo di Castelluccia un intervento deciso ma non mi sembrava mi sembrava più palla che pelle comunque infatti l'avetro che ha fischiato ricordiamo che sono Antonio Lanzoni di Torino e Stefano Quaglia di Milano vorrei dire che questo fallo non mi quaglia molto no no non quaglia tanto neanche a me però forse ha punito l'intensità e qui un fallo fischiato a Baroni veramente mi sembra un processo alle intenzioni si veramente perché ha strappato l'imbazio si è appoggiato con fuoga però non mi sembrava un fallo decisamente da fischiare no assolutamente però Baroni è capace di esaltarsi dopo questi fischi avversi è capace di dare il meglio di sé vediamo deve trovare un po' più di continuità in attacco il corso Volpino ha sporcato il tiro di Trachi qua ha sporcato il tiro che è stato mezzo stoppato quindi ci sarà la rimessa dal fondo vediamo il tiro ci sta Polonara non contestato si stampa sul primo ferro e riparte Lempoli con Mariotti la palla gira velocemente molto ben fatto con la sua penetrazione centrale diciamo che la difesa proprio mostra un po' i suoi limiti come nella gara d'andata come dicevo prima i 95 punti subiti diciamo è un aspetto sul quale bisogna coach Gabrielli deve lavorare assolutamente ecco Baroni batti a Baroni ribasso tiro più fallo andrà in destra per il tiro libero superventare e a noi piace così 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 anche perché è un prodotto del vivaglio di Costa Volpino per cui Costa Volpino al 100% assolutamente hai perfettamente ragione non so se le scalpe sono di Costa Volpino ma tutto il resto mi sembra di sì colore di Costa quindi realizza anche il tiro libero supplementare è ancora di schierata zona pari il Costa vediamo vediamo se riesce a limitare un po' quelle che sono le penetrazioni centrali un taglio flash di Mariotti che riceve ma poi scarica va bene dai la zona sembra avere un attimo aggiunato le penetrazioni centrali adesso è già due attacchi che la palla gira con difficoltà ma sì guarda la soluzione tattica di difendere il pick and roll concedendo il tiro Ben si congegna con una con una difesa zona di questo tipo in sostanza propone la stessa la stessa filosofia difensiva quindi come dicevi tu lasciamo un po' più il tiro però Empoli è costretto a girare di più la palla lavorarla sembra quasi che ogni tanto si scoraggino l'importante è mettere sempre la mano avanti sempre assolutamente essere un po' più aggressivi sugli esterni questo non va subito non c'è stata la chiusura di Guersi per cui Terrosi mi sembra è andato a segno sì ti confermo ecco quindi siamo a 5 minuti e 40 dal termine siamo il punteggio è sul 22 Corsa Voltino e 30 Empoli quindi Corsa Voltito in attacco con Castelluccia che che tirando invece riesce a fare un assist a Guersi si trasforma in un assist per Guersi e qui c'è attenzione attenzione perché questo è un fallo va bene ha applicato sì ha applicato lo stesso lo stesso metodo di prima per cui direi che Baroni allora sta vincendo 2 a 1 sta vincendo 2 a 1 la sua personale partita sono Gio se mi permetti vorrei dirti che ci sono alcuni giocatori del Corsa che devono assolutamente mettere il cuore in partita dall'inizio alla fine i punti verranno il gioco verrà ma comunque e già comunque si vede un certo tipo di gioco una certa mano evitare le distrazioni assolutamente anche perché distratti in attacco poi subiamo anche in difesa secondo me non è un caso sì noi infatti sono già 30 punti subiti in 15 minuti diciamo che bisogna farne veramente tanti se si vogliono vincere partite subendo questo si prende il tiro la sua la full metal jacket la chiamo io il tiro di Baroni il tiro da tre un tiro un po' con la parabola un po' tesa recupera questo pallone si fa subito perdonare tracchi agisportivo agisportivo fiscato da Mariotti ormai tracchi era passato davanti ha messo la freccia ha sorpassato ha messo la freccia e ha superato sulla sinistra era un po' illegale come sorpasso deve essere inglese ha studiato in inghilterra trax lo chiameremo trax ha detto ai trasporti quindi sbaglia la prima occasione siamo a 4.59 dal termine il punteggio è sempre 24 a 30 purtroppo un 0 su 2 per tracchi però la palla rimane in possesso al Costa Volpino una collana d'aglio sul canestro assolutamente qua perché Costa Volpino sta litigando dalla lunga distanza dell'amati penetra scarica gira la palla Castellucci alla 3 ancora sul primo ferro ecco diciamo Castellucci è uno che dovrebbe dare un apporto maggiore ma finora è stato piuttosto in ombra la difesa non si adegua si prende il tiro ma finisce sul primo ferro rimessa per il Costa Volpino ma guarda Gio ti devo dire tiri da 3 ben presi in una circolazione di palla ottimale c'è soltanto da metterli io ho buone speranze che nei prossimi minuti si raddrizzeranno le percentuali infatti penso che sulla zona hanno preso 4 punti 2 punti all'inizio questo è quello che aspettavamo a Castellucci è quello che aspettavamo che entrasse in partita per cui si è preso questo jump shot molto bene canestro più fallo e tiro l'ubbio supplementare sono quelle cose che ti fanno anche rientrare in partita perfetto io mi auguro che le soluzioni tattiche offensive di Costa Volpino rimangano le stesse perché mi sembra che Empoli stia facendo fatica si infatti anche nella prima partita che ha disputato l'Empoli la Eagles Bologna ha fatto una partita quasi interamente a zona per cui il coach Salieri che è un coach di esperienza si è adottato un atteggiamento tattico simile ha fatto ricorso spesso a questo atteggiamento un motivo ce l'avrà avuto e finora al coach Gabrielli sembra dare ragione perché tutto sommato adesso ha preso quattro punti sulla zona due l'ha presi da un buon tiro da tre per cinque punti e l'altro sulla penetrazione sul quale non c'è stato l'aiuto ecco però tutto sommato tiene la zona sono d'accordo con te Joe far lavorare molto la palla a Empoli costringerli a fare attacchi lunghi a trovare soluzioni di tiro quasi senza rimbalzo e anche in attacco a me piace molto come ti dicevo quando Costa Volpino penetra e scarica e poi circola sul perimetro la palla con un'ottima velocità passaggio Castelluccia realizza il suo tiro supplementare quindi a 4 e 15 dal riposo lungo il Costa Volpino è rientrato dal break quindi siamo 27 Costa Volpino e 30 Empoli mi sembravano passi a me questi qui sinceramente e qua siamo americani ormai siamo americani no ti dicevo l'importante è come li fai perché li ha fatti in bello stile li ha fatti bene quindi gli arbitri non l'hanno fischiato sì 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 assoluto quindi Costa Volpino in attacco vediamo serie di blocchi esce Castelluccia per ricevere Baroni in post niente ribaltamento si schiazza molto bene ecco molto bene ottima circolazione di palla ha seguito molto bene i guerzi ecco il palleggio forse è stato un qualcosa in più poteva appoggiare direttamente ed ecco la palla persa che potrebbe far rientrare e consentire il primo sorpasso del Costa Volpino su Empoli siamo 29 a 30 sempre per l'Empoli a 3.28 dalla fine si siede finalmente Marco Lucci egoisticamente spero che non si riposi e comunque anche con lui in campo Costa Volpino ha saputo fare fare bene ha preso le misure mi sembra quell'avversario il palleggio di Guerci non ci stava ma la sua fama l'ha preceduto non si sono azzardati a fargli fallo non lo so se Empoli ha un problema di panchina corta come pivot ma Ravazzani e Bartolucci mi sembra che siano poco risparmiati vediamo se effettivamente adesso io scherzavo ma stancarli potrebbe essere una buona soluzione si è ricorso poco alla panchina l'Empoli questo è il secondo airball di Castellucia questa volta a dire vero ho preso un po' la rettina ma si deve essere spostata ci sono ci sono i nanetti dispettosi sul ferro che che spostano il ferro perché è lo stesso problema che ha l'Empoli per questo tiro completamente fuori dal canestro Ravazzani lamentava un fallo ecco Baroni ferma un'azione possibile di contropiede si ha cercato l'assist su Guerci ma è stato intercettato e ha cercato di rimediare come poteva un fallo non cattivo ma comunque diciamo si dice di esperienza un classico fallo da mediano esatto di esperienza di esperienza proponiamo ancora la zona attenzione al post alto lì rischiamo di cedere qualcosa gli esterni difensivi dovranno impedire che da quella posizione nascano problemi ecco rientra Polonara al posto di Caramatti quindi si ripropone questa zona pari 2-3 intercetto di Tracca la palla non gira qualche palleggio di troppo diciamo che con le trazioni di Ragazzani scarica per Mariotti palleggio ancora tiro tiro molto ben contestato e si riparte molto bene giù molto bene tiro di Vanetti si è tirato con mano in faccia la palla solo per sfortuna non è entrata però diciamo che è un paio di minuti che L'Empoli è bloccato sui 30 punti ahimè non riusciamo ad approfittarne ebbè purtroppo dopo due palle perse nel baronetto Mattia è arrivato inesorabile il cambio e rientra Furlanes beh questo significa innanzitutto che insomma non era non era niente di che l'infortunio di prima questo ci rallegra e adesso vediamolo in azione Castelluccia si sposta sulla sulla linea interna difensiva e Furlanes si piazza invece davanti nella difesa zona siamo molto molto compatta questa difesa la palla non gira molto velocemente e sono abbondanti di errori e comunque i tiri forzati e non tutti provocati devo dirti ecco di nuovo schiacciato in post Sguerzi vediamo ribalta dall'altra parte Caramatti per Polonara di nuovo per Caramatti che si prende questo tiro dalla pancia viene sovrastato a Furlanes ma che invece recupera la palla quindi ci sono nuovi 24 secondi per questa azione di attacco del Costa Volpino tale di Polonara bellissimo c'era anche il falso Polonara estremamente mobile in questa situazione ben pescato si è molto molto d'utile per cui attacca bene sia da 3 che da 4 poi con Guerci è un ottimo anticipo difensivo anche che fa scattare le azioni di contropiede vediamo in questa situazione secondaria si prende oh no sarà tutto il tempo per far lavorare ancora un po' la difesa perché erano passati appena 4 secondi ma ti dirò di più forse si aspettava i suoi compagni si aspettavano un tiro da lì lui ce l'ha questa soluzione si ce l'ha ogni tanto da prendere il tiro di ignoranza la tentazione è stata quella che a noi piace sempre a noi piace ma al cuocio un po' meno perché se senti sei un pionterra se sbagli se sbagli sei in panca se sbagli ti meriti la panchina e intanto siamo davanti intanto c'è stato il sorpasso mancano 50 secondi alla fine del secondo quarto e il costa Volpino è avanti di 31 a 30 quindi diciamo ha risolto un po' i problemi di difesa beh caro Gio lamentavi che dopo 15 minuti 30 punti subiti erano tanti dopo 20 minuti va già meglio dai cosa dici va già meglio è un numero che 19 minuti e 9 secondi è un numero che inizia a piacermi di più adesso non so chi ha chiesto il minuto perché ero un po' disattento minuto chiesto dagli ospiti dagli ospiti 50-50 Gio vediamo se mette l'altro quindi vediamo a rietro in campo vedremo poi con le statistiche alla mano faremo un resoconto anche matematico matematico sai che le statistiche dicono molto ma non dicono tutto cercheremo di leggerle noi esatto come noi sappiamo fare esattamente quindi palla che ci penetrazione scarica ribaltamento tiro di Regazzani non va finisca il terzo fallo purtroppo mi sa di di caravanti questo non è una buona notizia Castelluccia a Castelluccia a Castelluccia scusa secondo pallo è secondo non ha zaccato niente era 50-50 per cui il Cacciavoltino era in bonus e regala questi due tiri liberi impattano impattano 31 pari a 40 secondi dalla fine da notare difensivamente Furlanis segue molto la circolazione di palla segue molto il giocatore che è in palleggio vediamo se è una richiesta specifica di Gabrielli e vediamo soprattutto se Empoli ribalterà la palla più frequentemente in questa situazione o continuerà con il suo gioco Furlanis che penetra si prende il suo jump shot finisce sul secondo ferro era comunque un tiro buon preso ben preso e adesso c'è l'opportunità dell'ultima azione mancano 13 secondi alla fine per cui terrà il pallone fino alla fine Mariotti vediamo non vanno si schiazza si svita tira la palla esce sul secondo ferro il tiro della respirazione finisce sul capellone si chiude quindi il secondo quarto 32 a 31 per l'Empoli statistico statistico senti parlo troppo lo sto a detto tu cazzate si becca a porta senti noi due ci lasciamo andare adesso ci lasciamo andare ma lui poverino le senti le cazzate va bene va bene ti occhio qualcosa oi 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, ti chiedo un'analisi. Devo studiare? Studia, studia. Ti dirò già di qua, verso di me, tu sei sicuro di beccarlo, se no ti rimane buono. C'hai anche l'allenatore? Ho le fasi. Ho le fasi. L'autografo dopo. Wow. Wow. Ben ritrovati. Alla fine del primo tempo l'Empoli conduce 32-31 sul Corso Volpino. Ben ritrovati qua a Pala CBL per l'occasione Pala BBL, vista la promozione. Coach Ferre, detto anche Principe di Bienno, qual è la tua prima valutazione su questo primo tempo? Sono contentissimo di come stanno conducendo mentalmente la partita perché rimangono sempre nel gioco, non mollano niente. Come vedi si sacrificano, si buttano, sarà una battaglia fino alla fine, devono metterla anche su questo piano. Perché mi sembra che Empoli, se si può trovargli un difetto, sia proprio questo. Cioè se è costretto a giocare molto la palla e a faticare, mi sembra che conceda qualcosa a questo Volpino. Ecco, questo Volpino ripropone ancora la zona ovviamente. Una volta si diceva la formazione è il modulo tattico vincente, non si cambia. Anche se penso che durante la settimana non abbia lavorato in allenamento su questo modulo tattico. Ha fatto di necessità virtù, devo dire che ha funzionato. Anch'io all'inizio pensavo che fosse una soluzione provvisoria, invece i risultati sono buoni, continuiamo così. Ecco, guardiamo un po' le statistiche del primo quarto, magari così. Ma guarda, da una primissima analisi ti direi che, beh, tiri liberi pochissimi e mal tirati al momento da parte di Corsa Volpino. Sono andati in lunetta molto più spesso gli ospiti e hanno avuto il 100%, ti confermo la nostra impressione di qualche minuto fa. Il 100%. Spreconi anche da tre, i casalinghi e poi ecco punteggio, punti molto polarizzati nelle mani di pochi giocatori. Lasse, Play Pivot, Mariotti e Bartolucci per quanto riguarda Empoli. Mentre invece i più prolifici realizzatori sono stati Querce e Polomaro per quanto riguarda questo Volpino. Ecco, nel frattempo è stato fischiato il terzo tempo a Fulanis. Prima un fallo in attacco e adesso un fallo in difesa. Diciamo che anche Corsa Volpino alla fine non è che sta ruotando molto la panchina perché abbiamo anche Cicive che praticamente non è mai entrato. Adesso ci sarà il cambio di Caramatti ed esce giustamente Fulanis che ha commesso il terzo fallo. Significa che Fulanis è importante per questa squadra che dovrà essere assolutamente impiegato per un finale che si spera essere, insomma, positivo. Sì, certo. Perché Tracca sta giocando praticamente con continuità e è stato cambiato forse un minuto per cui... Forse neanche, sì. Ci vorrà anche un po' di freschezza fisica al finale e dovrà essere dato il cambio a Tracca e verrà dato con Fulanis, immagino. Penso, penso anch'io che tu abbia ragione. Anche se al momento sembra un motorino instancabile. Brutta palla persa, abbastanza banalmente. A 8 minuti e 07 al termine del terzo quarto. Il punteggio è ancora invariato. Squadre contrate. Adesso c'è un intercetto di Tracca. E viene fischiato, non ho capito cosa, una rimessa penso per... L'arbitro interrompe l'azione d'attacco di Costa Volpino. Un giocatore dell'Empoli è sembrato accusarsi dell'ultimo tocco, ma si riparte in difesa per Costa. Per le tassoni di Bartolucci, riapre per Mariotti. Ma la palla gira faticosamente. Adesso questo tenta il tiro da Treva. Non era poi neanche tanto deciso. E Manetti. Manetti segna da Tre. Manetti che insacca. E attenzione perché qui il coach Gabrielli mi sa che perderà la sua proverbiale aplomb. Sì. Non ho ancora avuto la fortuna di vederla, però... Diciamo che non ha apprezzato questa palla persa un po'... Più che proverbiale, leggendaria, non si sa se sia vero o presunto. Eh, esatto. Che poi infatti risomiglianze. Prima abbiamo parlato di Lebron James. Però se io vedo coach Gabrielli... Eccoci qua. Devo... Problemi tecnici col microfono. Però se vedo coach Gabrielli... A me viene in mente Beppe Grillo. Non so se... Eh, beh, insomma, sì, sì, sì. Deve avere qualche quarto genovese. E commenta questa, commenta questa. Solo soletto. Un tiro praticamente ventrale perché... Diciamo come meccanica di tiro non mi piace molto, però molto efficace evidentemente. Beh, essendo così piccolo si è abituato ad alzare molto molto la mano. Infatti si vede, no? Esatto, esatto. Si scarica per Caramatti la palla circola. Adesso c'è il tiro di Castelluccia. Che purtroppo ancora non è entrato in partita. Ma guarda, per motivi squisitamente tattici ti dirò... Era meglio se entrava. Ecco, Mariotti ha forzato l'entrata. Su Caramatti che va a commettere il... Secondo o terzo fallo. Mi sa che cominciamo a preoccuparci per la situazione dei falli, eh? Sì, perché abbiamo quindi detto praticamente che è schierato, che è già a due o tre falli. Rimessa in attacco per Lempoli. Palla sotto appoggiata sul tabellone. Regalo. L'impazzo di Guerci. Apre subito il tracca. Paramatti arresto tiro. No, Paramatti. Caramatti. E ancora una volta il pallone va sul secondo ferro. Questo fa male, eh? Questo fa male. E Ravazzani punisce dalla lunetta, che è la zona un po' più squarnita, quando si difende in questo modo. Si sa che si deve pagare qualcosa. Sì, beh, è arrivato un tiro in transizione, con la difesa un po' allargata. Non è arrivato sicuramente con un'azione manovrata. Comunque hanno sfruttato bene la ripartenza. Intanto la situazione è falli di squadra, locali due e ospiti uno, quindi squadra ancora lontane dal bonus, quando mancano sei minuti alla fine. Continuiamo a litigare col canestro, vediamo se riusciamo a mantenere rocambolescamente, recupera la palla Lempoli. Castelluccia ancora litica, ma io direi che è venuta l'ora di scaldare la panchina, di dare un po' di cera alla panchina per Castelluccia. Cosa pensi? Assolutamente, perché insomma adesso le buone intenzioni si stanno esaurendo, adesso bisogna vincere una partita. Adesso diciamo che il terzo tempo normalmente è il tempo nel quale si vincono le partite. Si schiaccia Guersi. Prende un buon fallo, vediamo se viene assegnato a Ravazzani. Fammi commentare il tiro in corsa di Caramatti, mi è sembrato di cogliere una certa fretta di trovare la giusta bene realizzativa da parte dei ragazzi, mentre invece il coach Gabrielli giustamente chiedeva un po' di calma. Questo, se vogliamo, è un po' il limite della squadra di quest'anno, che è una squadra molto giovane, quindi esuberante, capace magari di grandi parziali, in attacco, e quando si trova sotto magari la voglia di recuperare, porta a recuperare in fretta, porta magari a cattive scelte di tiro, eccetera. Mentre sappiamo che noi che abbiamo calcato parquet nella Bergamasca, famosi parquet, sappiamo come comportarci, soprattutto nel dopo partita e nei post allenamenti. Mi sa che questi ragazzi, fortuna loro, non conoscono il dopo partita. Avranno modo. Sennò saranno rovinati. Beh, bisogna amarli, bisogna amarli. E abbiamo questo... Tirello di Guersi. 37 pari, a 5 minuti dalla fine del terzo quarto. Guersi ha messo il suo tirello, che ogni tanto si prende dall'arco. Stringiamo le maglie difensive. Sono le mani un po' ruvide di Manetti. La butta su, butta su una preghiera e riesce anche a recuperare la palla. Ma poi la butta fuori. Chizzani. Recupero difensivo di Costa Volpino. No, Manetti. Li costringiamo, sì, Manetti butta fuori la palla, non riesce a tenerla in campo. Ecco, noto che è cambiato chi asciuga. Asciuga perché? Perché è un compagno di squadra del mio figlio. Adesso prenderò provvedimenti al prossimo allenamento. C'è un fisco arbitrale che vorrei interpretare insieme a te. Terzo fallo per Manetti, che si accomoda in panchina. Entra al suo posto Simone Gelli. Cambio tra Giovincelli? Esattamente, direi proprio di sì. Un classe 82, un classe 78, vediamo Gelli. Vediamo Guerci se si svita, no? Scarica per Castelluccia. Che la mette! la tripla del vantaggio. Quarà è da 37 a 4 minuti dal fine del terzo quarto. Viene fiscato fallo in attacco in questo momento a Ghizzani. Quindi un momento positivo per Costa Volpino. Finalmente Castelluccia mette la tripla. Hanno continuato a cercarlo. È veramente un ottimo segnale questo. Infatti avevo detto, è ora di cambiarlo. E subito risponde con una tripla. Si schiaccia Guerci. Viene fiscato il fallo. Perde la pazienza Ravazzani. Mi sa che siamo al terzo, quasi quarto fallo. Terzo fallo. Secondo fallo, secondo fallo, perdono. Secondo fallo di Ravazzani. Vediamo un po', ma Bartolucci che fine ha fatto? Bartolucci è stato dimenticato in panchina. Ed è lì? È meglio che resti lì? E qua si è asciugato e si è messo in campo. Però, eh, contrariamente alle indicazioni del suo coach, si è messo in campo da solo. Ovvio, l'è meglio che rimanga lì. Ecco questo ragazzone qua di Empoli. Ovvio. Ovvio. Non ci piace punto. Perché adesso la telecoma la facciamo in Toscano. Castelluccia con la cannuccia. Questa mi mancava. Bene, torniamo a essere semiserie. L'Empoli di nuovo in attacco con Gelli. Che ha dato il campo. No, è in campo con Mariotti. E' rimpiscato il fallo a Polonara. Un arbitraggio decisamente contenitivo da ambo le parti. Io premierei di più l'audacia difensiva. Non mi sembrava un intervento sporco, ma va bene così. Ecco, peccato. Adesso, diciamo, ha aumentato l'intensità. Perché hanno iniziato a fischiare un po' tutti i contatti. Pensiamo che qua, in questa circostanza, è stato speso un fallo, diciamo, un po' inutile. Perché era sotto un canestro. La possibilità di girare nel centro era... Non vedeva molta porta. Sì, no, esattamente. Vediamo un po'. Continuano a tirare ottimamente i liberi. Ecco qui. Avevo invocato Bartolucci. Ed è già lunetta. Vediamo se Baroni sarà la criptonite per Bartolucci. Sicuramente può dare molta intensità difensiva. Alla squadra... Alla squadra... Baroni, a me è piaciuto molto l'anno scorso. Secondo me è stato veramente cuore e anche sostanza della squadra. Ha fatto la sua parte egregiamente. E come dicevi tu, ogni tanto bisogna anche perdonargli. Secondo me certe esuberanze, ma... Dai, forza ragazzi. Certamente. Penetra. Tracca. E arriva il suo tirello dalla media. Pesante, pesante. Molto bene. Tracchi veramente instancabile. Io continuo a chiamarlo Tracca, ma... Trax. 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 Siccome supera sulla sinistra lui. Trax. Trax. Grosse difficoltà di circolazione di palla. Si libera Bartolucci che spara sul secondo ferro. Ai, ai, ai. La zona ci fa pagare un po' i rimbalzi difensibili. Dipende Ghizzani, però è uno dei migliori rimbalzisti. Sappiamo che sulla zona i rimbalzi purtroppo... Molto volte sono preda dell'attacco. Da qualche parte dobbiamo pagare, naturalmente. Ecco, viene fiscato il terzo fallo a Baroni, per cui tutte e due le squadre in questo momento sono a bonus. Attenzione a questo De Angelis che è andato a sostituire un'appelina importante dell'Empoli dell'anno scorso. De Angelis ha sostituito proprio all'inizio del campionato un'altra ala, Bini, che proveniva dalla serie A, mi sembra, dilettanti. Ecco, Guersi si schiazza e piazza il suo semigancio. Adesso lo riconosciamo. Adesso lo riconosciamo, veramente, è ragione. Uh, ai limiti del passi questa azione. Continua la zonona, Gelli rinuncia al tiro, attacca Bartolucci, si butta dentro, appoggia sul tabellone e realizza. È una vera spina nel fianco, anche perché ha una bella fisicità rispetto a Guersi. Sì, è alto, però, diciamo, è già più esile come struttura Bartolucci, invece, diciamo, è un attimo più spallato, ha più anche prestanza fisica. Sì, fa valere molto i suoi chili, la sua prestanza atletica e ha una mano caldissima stasera. La cosa non stupisce, essendolo un buon realizzatore. Bisognerà contenerlo. Nel primo quarto è stato il maggior realizzatore delle Empoli con 12 punti su 30, quindi, diciamo, che l'attacco passa per le sue mani. Intanto va a vuoto la tripla tentata da Massimo Guerci. Mariotti sfida l'imperatore qua di Corsa Volpino. A me, sinceramente, sembrava anche farlo. C'è lo scarico per Furlanis, finisce sul primo ferro, rimbalzo di Mattia Baroni. Abbiamo assolutamente bisogno di un Furlanis più prolifico in attacco. Mi auguro veramente per lui e per noi che si sblocchi, perché se lo merita. Si, è dovuto stare fuori a Lugo, perché è gravato anche lui da tre falli. Ecco, rimbalzone di Guerci, che non riesce però a controllare in maniera decisiva. È troppo solo l'attacco di Corsa Volpino, per non sbilanciarsi e non subire contropiede ciò che abbuona la prima. Se non si segna e rimbalzissi in attacco, faticano 3-1 parecchio. Ecco, meno male, finisce sul primo ferro, la conclusione di Bartolucci. Secondo fallo per Marco Guerci. Time out, Corsa Volpino. Viene chiamato quando manca appunto un minuto dalla fine. E Corsa Volpino conduce per 45 a 43. Una valutazione su questo terzo quarto, coach Principe. Ma allora, intanto, come dicevi all'inizio, il terzo quarto... Io non sono affezionato a questa regola, però effettivamente spesso è confermato il terzo quarto è un po' la verità. Beh, se è la verità, io direi che Corsa Volpino sta impattando più che bene la partita, si sta facendo valere, sta tenendo i ritmi bassi, sta controllando Empoli. Io spero che vengano sfiancati soprattutto nel morale. Secondo me non si aspettavano dopo la prima giornata del campionato un avversario così tenace che non mollava niente. E ripeto, Joe, sto aspettando ancora chi ha punti nelle mani perché non ha ancora fatto vedere quello che può fare. se infatti sono stati risolti i problemi, diciamo, difensivi però in attacco bisogna che contribuiscono un po' tutti. Anche nel primo tempo i punti sono stati concentrati nelle mani di Polonara e il resto dei punti sono suddivisi da Castelluccia, Baroni, Caramati e Tracchi. Viste anche le rotazioni, al di là di ciò che sei obbligato a fare per la situazione Falli ti devo dire che un po' si sono delineati gli ruoli. probabilmente Cosicabrielli sta pensando al quarto e decisivo quarto. Adesso è perfetta parità, minuto alla fine, 45 pari, nuova azione di attacco per il Costa Volpino. La palla non gira, viene cercato Guerzi, ma il pallone finisce direttamente sul fondo. Non si sono capiti. Un gioco alto-basso che Empoli ha anche provocato un po'. Hanno sfidato a questa soluzione l'attacco il Costa Volpino, purtroppo il passaggio non è stato ottimale. Si è fischiato un pallo in attacco a Bartolucci, credo. Secondo fallo per lui, quando mancano 39 secondi dalla fine. La situazione Falli non preoccupa Empoli più di tanto. Vediamo un po', mi sembra che anche la squadra ospite stia pensando al prossimo quarto. Ormai questo è quasi alla fine. Ci sarà la penultima azione di attacco. che decide di giocarla con calma il Costa Volpino. Cerca di servire Caramatti, Guerzi, che dalla media è un killer. Il gioco a due è sicuramente la soluzione tattica in attacco che preferisco del Costa Volpino stasera contro Empoli. Sì, infatti fai la tua penetrazione, scarichi per il tiro cose semplici senza fare... Cose buone dal mondo. Esattamente. Adesso è chiuso, si alza e tira una spallonata. E questo non ci voleva, eh? E questo non ci voleva. Perché ci voleva il taglio a fuori, ma Caramatti si lascia superare da Manetti. Quindi si conclude, 47 pari, terzo quarto. Se parli ancora un tanomico, uno ti mangia. Vuoi far cambio? Vuoi far cambio, Gio? Tanto devi parlare di più tu, non di mio, parlo più. Come vuoi? Il gelato, mi piace il gelato. Lo so, hai ragione. Che dici? T'ho fatto la domanda altra di mente, Subini, Boni. Non mi ricordavo più. Boni, Boni ha giocato in Serie A, sono sicuro. Guarda, se il Costa adesso prende un maggio di vantaggio, io e te non ci freniamo più, eh? Se la partita viene messa in sicurezza, io e te non ci freniamo. Allora, ho continuato a chiamare Tracca. Tracca. Ma sì, è che non sentivo... È Tracca. Tracca. Poi vediamo. Eccoci al quarto quarto di Vivi Gas Costa Volpino Empoli. Perfetta parità, 47 pari dopo tre tempi. Palla in mano a Lempoli che si accinge alla rimessa in attacco. Coach Ferre, un'analisi sul terzo quarto. È un terzo quarto molto, molto più di studio, molto più tattico. Ho visto degli attacchi un po' frenati. Ma alla fine direi positivo per Costa Volpino. Ho visto più luce che ombra, soprattutto nelle file della squadra casalinga. Attenzione al quarto decisivo quarto, che è costante la vittoria la settimana scorsa a Rozzano. Empoli ha sempre qualche carta da giocare. Sì, la vittoria dell'Empoli infatti è arrivata con un parziale, con tiri pesanti nel finale. Cosa che finora non è più stata concessa. Diciamo che la zona ha difeso bene sugli esterni. Ha sporcato un po' tutte quelle che erano le linee di passaggio. Per cui l'Empoli ha trovato grosse difficoltà in attacco. Sì, infatti, non dimentichiamoci che i rimbalzi in attacco subiti da Costa Volpino sono anche frutto di una scelta tattica. Non di subire i rimbalzi, ma di pagare qualcosa di più per la situazione. Ma chiudere il più possibile l'arco. Ecco, quindi è stato fischiato il primo fallo a Mariotti. Il terzo personale di Mariotti. Sono momenti decisivi. C'è il raddoppio su Caramatti, al quale viene fischiata l'infrazione di passi per la chiusura, sull'aiuto difensivo di Gelli. Caramatti adesso viene esposto il suo terzo fallo personale. C'è il cambio di Baroni per Polonara. Anche lui, diciamo, si è riposato parecchio dopo nel primo quarto essere stato decisivo in attacco con delle belle triangolazioni con Guerci. Sì, un'ottima intesa, un'ottima intesa. Attenzione ai ritmi difensivi di Empoli. Mi aspetto un'aggressività superiore rispetto ai più interquatti della partita. Ecco, quindi... Ruba palla a Trachi che si invola e va a segnare questo. Facile appoggio il contropiede per il più due del Cosa Volpino quando mancano nove minuti al termine della partita. Bartolucci, palleggia, ribalta per Mariotti che si prende questo tiro che finisce fuori. Secondo rimbalzo, purtroppo, consecutivo, preso da De Angelis. E qui i rimbalzi difensivi purtroppo sono una nota dolente per il Cosa Volpino di cui ne abbiamo già parlato. Penetrazione centrale di Trachi. Che forza! Trachi punisce severamente la difesa. Un 1-2 eccezionale. Attenzione però ai rimbalzi in attacco di Empoli. assolutamente da non concedere. Altra palla rubata, molto bene. Siamo a 8.22 al termine. 51-49 per il Cosa Volpino. Trachi vuole mettere un po' di calma nel gioco. Chiede palla a Guerci, si ribalta. E ancora Polonara che riceva. Scarico e tiro ancora di... Mi sembrava quasi un fallo a me. Però l'arbitro non è della stessa maniera. Castellucci è stato praticamente atterrato. Quindi la palla in mano adesso è Castellucci. Castellucci. Penetrazione centrale di Polonara. Ottimo! Ottimo primo passo. E time out Empoli. E time out Empoli. che non è rimasto soddisfatto di questo parziale del Cosa Volpino. Benissimo direi. Sì. Empoli sta rischiando qualcosa di più, come ti dicevo, in difesa. Ma è stato punito egregiamente dalle soluzioni tattiche d'attacco di Cosa Volpino. Non concediamo più secondi, terzi tiri a Empoli e questa partita la vincerà chi ha meno paura. Esattamente. Paura Cosa Volpino non ne ha. Abbiamo visto anche le due penetrazioni centrali. Sia di Tracchi che di Polonara che fanno ben sperare sulla determinazione degli attaccanti Sebini. Quindi quando mancano 7.46 al termine, Vivigas Cosa Volpino conduce 53 a 49 sull'Empoli. Questo diciamo è il massimo distacco raggiunto durante la partita. Sì, per Cosa Volpino quattro punti di vantaggio. Ricordo anch'io più o meno memoria sia stato il massimo vantaggio. Ma adesso vediamo un po' che cosa succederà. Io spero ancora in Furlanis e in ogni elemento del Costa in attacco. Ecco, Pena da Bartolucci, scarica, ribalta per Gelli. Non sa più cosa fare. E la palla viene persa. Il Lempoli ha grosse difficoltà ad attaccare questa zona. Quarto fallo, viene fischiato il fallo di sfondamento di Furlanis su Bartolucci. Questa sera nel dubbio tra Furlanis e Bartolucci si sceglie sempre Bartolucci, ahimè. Esatto. Viene mantenuto in campo da coach Gabrielli. A questo punto non dico più niente su di lui perché gli porta sfortuna. No, non diciamo più niente. Lasciamo l'impace. Guardiamo e vediamo cosa succede. La palla, palleggia, palleggia, ma alla fine... Che adesso per il momento è lontano. E beh, come ti dicevo nel dubbio tra Bartolucci e Furlanis si sceglie Bartolucci. Però su Bartolucci bisogna fare qualcosa che non può tirare, andare a prendersi il rimbalzo, subire il fallo. No, troppo libero, troppo libero. Gode di troppa libertà. Ecco, situazione falli di squadra, sono due locali, ospiti uno, quando mancano sette minuti e dieci al termine. Rimessa l'attacco di Gelli per Bartolucci. La palla gira non tanto velocemente, si ribalta, si ritorna sullo stesso lato. Poche idee, si cerca solo Bartolucci. Molto statico il gioco, hai perfettamente ragione. E finalmente la palla è persa. Beh, anche questo fallo in attacco, sinceramente. Preso un po' per i capelli. Sì, sì. Eh, sì, sì, sì. Diciamo che applicano lo stesso metodo. La coppia arbitrale, per cui... Se la palla non la ha Bartolucci. Se c'è la Bartolucci, io fisco a favore. Adesso c'è la sfida, sotto canestro. Pizzoneva doppio. Si svita. E la metta. Il capitano, nel momento decisivo. Liberatorio. Liberatorio. Si svita e piazza il suo semigancio. Alto basso, tiro da tre, che finisce sul secondo palo. Castelluccia prende il rimbalzo. E tra chi può impostare la nuova azione. 55-49 per il Corsa Volpino. È il momento di sicuramente ragionare e giocare con calma. Forza all'entrata, Castelluccia si arresta per il tiro. E mette dalla media. Un jump shot importantissimo per il 57-49, a sei minuti dalla fine. Post basso, viene chiuso, raddoppiato. Purtroppo la palla finisce fuori, ma comunque rimane il possesso di Corsa Volpino. L'Eppoli chiede un ulteriore minuto perché vede che il break si sta allargando. Il coach 15 ci vuole parlare sopra. Impossibile commentare la partita con questo tipo assordante, ma va bene così. Veramente, nell'ultima partita vittoriosa con Cremona che è valsa la qualificazione alla Serie B. È stata una bolza e oggi è ancora una bolza. E tutto questo è veramente bello. Ci vuole per tutto il movimento cestistico della zona perché comunque ricordiamo che il Corsa Volpino rimane la seconda squadra dopo il Treviglio della provincia di Bergamo. Un traguardo che non è mai stato raggiunto prima e neanche siamo dalle squadre un po' dell'area Sebine, eccetto Liseo. Frutto di programmazione, buona politica e tantissima voglia. Quindi siamo a 5 minuti e 51 dal termine della partita. Il Corsa Volpino conduce per 57 e 49. Tutto è pronto per la ripresa in zona d'attacco. Furlanis cerca Polonara. Passaggio consegnato per Trachi che chiama schema a testa. C'è il blocco di Guersi. Riceve Cicivelli che scarica per Guersi. E si chiude la triangolazione. È tutto molto bello da manuale del basket. Veramente molto difficile ma molto ben eseguito. E siamo al più 10 di Corsa Volpino. Attacco di Mariotti. Cerca qualche varco nelle maglie difensive ma i due difensori, Trachi e Furlanis, veramente davanti, stanno facendo lavoro e greggio. Trova questo tiro a tre ma forzatissimo. L'ha preso con mani in faccia, non c'è niente da dire. Poi è il primo tiro a tre che prendono centralmente. Bisogna per forza concederlo al dio della palla canestro e ci sta tutto. Però le indicazioni difensive sono assolutamente positive. Grande impegno, grande personalità anche di Corsa Volpino nonostante sia una matricola. Come ti dicevo adesso Empoli alza un po' il ritmo difensivo. Vediamo se togliamo. E questo lo commenti tu. Questo è un buon segno. Perché a due secondi dalla fine prende un tiro, mano in faccia. Un tiro preso fuori dagli schemi e lo mette da tre. Vuol dire che Cicivelli c'è. Avevo fatto anche la rima. Cicivelli c'è. Parafrasando Paolo Limiti è un tiro un po' intraducibile. Conclude le sue fatiche Furlanis con il quinto fallo. Ecco con la sua tripla il Corsa Volpino si riporta a dieci lunghezze di vantaggio. Quindi c'è il nuovo attacco che prende la linea di fondo. Difesa al limite di Polo Mara. Direi che quella era la mia difesa perché quando passava l'attaccante un bel colpo di panza e Zachet. E la difesa di sostanza. E a questo punto Mariotti non può riuscire dal campo. Esatto. Mesto e pesto. Giocatore di panza, giocatore di sostanza si diceva. Quindi Tracchi. Adesso è aumentata la... Attenzione agli anticipi. Si cercano appunto di rubare e sporcare le linee di passaggio l'Empoli. Viene cercato Polonara. Raddoppiato ma commette fallo. Viene fiscato falli a De Angelis. Quindi un po' di tutelation anche per gli attaccanti Sebini. Polonara. Quarto fallo per De Angelis. E terzo fallo di squadra per l'Empoli. Per vie verticali Guerci e Polonari si stanno trovando benissimo. Direi che su questa asse l'attacco del Corso a Volpino ha prodotto i suoi punti maggiori. Il Guerci è sempre molto pericoloso perché quando si schiaccia in posizione di post o viene raddoppiato comunque la difesa si adegua, flotta verso l'interno per cui i tagli centrali portano sempre dei buoni punti. E Polonara su questo... Un commento tecnico, scusa. No, scusa. No, prego, continua poi. Polonara su questo è ottimo direi. Ottimo a sfruttare le occasioni. Hai ragione Joe. Quindi adesso Cicivea ha preso coraggio. Forza all'entrata. Cambia mano e appoggia di sinistro. Fantastico canestro. Castelluccia. Castelluccia, sì. Per il più 12 del Corso a Volpino. Palla gira. Gira male. Palleggio. Arresto il tiro. Secondo ferro. Morbido, morbido. Morbido. Canestro e benevoli. I Dei dei baschi hanno ascoltato la preghiera del giocatore. E la palla è caduta in rete. Quindi Costa a Volpino in questo momento è a più 10. Si cerca Guerci. Solo, solo Epo. Niente da dire. Niente da dire. Bellissimo. Letteralmente fuori dagli schemi. Fuori dagli schemi. L'Empoli sta cercando di anticipare, raddoppiare. E viene fischiato il fallo a Marco Guerci. Ma io ti dirò. In lunetta l'Empoli per due tiri. Non ho notato azioni fallose. Ho visto una palla ormai persa da parte di Epole. Insomma, vabbè. Sì, c'è stata una veloce, diciamo, usando un termine pallavolissimo, riguerzo. E come dicevo prima, molte volte viene punito il gesto, più che il fallo stesso. E qui sarà il primo che smaglia, non sbaglia. I manetti dalla linea del conto per. Purtroppo Mariotti fa valere la sua maggiore stazza su Tracchi. E viene punita la sua esuberanza in difesa. E viene fischiato il secondo fallo per Mariotti. Mariotti non ci sta. Empoli sta sfidando. Costa Volpino a giocare individualmente. Ogni giocatore nel Costa deve prendersi le sue responsabilità e se le sta prendendo. Sì, ecco, di Sabo che adesso è in bonus. Anche l'Empoli, per cui ad ogni fallo il Costa Volpino andrà in lunetta. Per cui rimane da gestire il vantaggio. Non vengono fischiati una serie di sportellate sotto canestro. Ma tutto sommato, per noi adesso è meglio che il cronometro corra. E corra velocemente. Assolutamente. Dieci secondi per concludere l'azione. Viene fischiato lo sfondamento di Polonara. Nonostante le nuove regole, Polonara avrebbe dovuto essere in penetrazione con i piedi staccati da terra. All'interno dello smile non sarebbe stato sfondamento. Sì, io personalmente non ho ancora visto fischiare uno di questo. Ma è un po' come il terzo tempo in reverse. Sono oggetti un po' misteriosi. Vediamo pochissime volte soluzioni difensive in cui si danno questi sfondamenti o non si danno questi sfondamenti. Quindi siamo a 2.20 dal termine. Il Corsa Volpino mantiene il suo vantaggio maturato tutto nel quarto quarto. Vantaggio di 10 punti, 66 a 56. Diciamo che dal primo quarto che ha adottato la difesa zona e poi non l'ha più mollata. Diciamo che non capita spesso di vedere squadre anche a questi livelli adottare una zona così proprio durante tutta la partita senza variazioni. Eppoli non ha trovato il bandolo della matassa. Non è riuscita ad adattarsi alla difesa di Costa Volpino. Giustamente Costa Volpino ha continuato a insistere su questa soluzione. Devo dirti anche che le temute triple di fine partita di Empoli per il momento, adesso non vorrei, ma insomma non ci sono state. E soprattutto sono ben contestati i tiri da Costa Volpino nonostante sia a zona. Sì, sugli esterni si è lavorato molto bene. Per cui anche chi ha tirato, ha tirato sempre, come si dice in gergo, con le mani in faccia. Assolutamente, anche l'aggressività difensiva di Empoli al momento si è rivelata abbastanza sterile. Tutto si gioca su equilibri molto delicati, chiaramente. Ma se si rimane così intensi, veramente chi non ha paura vince. No, è partito. E mi hai già spiegato chi non ha paura, giusto? Sì, esatto, esatto. Per cui non ci ripetiamo. Manca 1,59 al termine. Coach Gabrielli, Arcangelo Gabrielli, io lo chiamo perché è approdato qua in riva al lago l'anno scorso e ha condotto vittoriosamente alla promozione una squadra che anche l'anno scorso, come quest'anno, è stata assemblata, diciamo, nuova, per otto decimi. L'intesa può solo migliorare. L'intesa può solo migliorare. Infatti anche l'anno scorso, fino a Natale, ci sono stati i risultati altalenati. Da Natale in poi non ce n'è stato più per nessuno. La squadra ha fatto 12 o 14 vittorie consecutive, nonostante tutta una serie di infortuni che ci sono stati, anche gravi, di giocatori importanti. È riuscito a trovare un equilibrio nella squadra, nei giocatori. Ognuno ha contribuito, per cui è stata una stagione veramente esaltante. E intanto hanno depenalizzato il reato di lesa maestà, Bartolucci ha commesso a farlo e gli è stato fischiato. Oh, finalmente. Ebbene sì, tra l'altro non poteva fare altrimenti. Oh via, allora gli diamo un fiorino di penalità. Vediamo il secondo libero. Secondo libero a segno per il più 12 del Corso Volpino. Adesso le mani non devono assolutamente tremare. No, direi di no. Adesso direi è il momento di accendere il gas, mettere sull'acqua. E buttiamo la pasta. E direi proprio... Dissavo che siamo qua in Camunia, però direi in Casoncelli, direi qualcosa di più tipico. Qualcosa di più tipico ci vuole. Oh via. Senti, in campo assolutamente non devono distrarsi, ma noi direi che potremmo cominciare a tenere le mani alzate da qua fino al traguardo. Esatto. Adesso non dobbiamo giocare noi. La Fiorentina qui l'abbiamo digerita. Oh via. Ho la voglia. Con abbondante pianti. E via. Mi sembra un minuto più lungo del solito. Tra l'altro è stato chiesto da Coach Gabrieli. Vediamo invece se Coach Pili ci chiederà il suo risoluzione più rapide. Tivi veloci dalla distanza. Mi sembra che i quintetti siano rimasti inalterati. e il nostro Trax Traki va verso la beatificazione. Trax, trasporti speciali. Eccolo qua, è pronti. E trasporta anche questa. Carico prezioso. Prima parlavi delle scarpette di Baroni. Però, anche quelle di Ravazzani, corredate dalla sua polsiera, non sono male. Non scherzano, non scherzano. Esce per cinque falli Manetti. Manetti e Samuele. Orienta Gelli. E dalla linea di Carità. Caramatti segna il più dodici per il Corsa Volpino. Secondo libero fallito. Aspettiamo ancora per il settantesimo punto. Aspettiamo. Qui o era fallo o era impasto. Situazione al limite. Qualcosa dovevano fischiare. E attenzione che ci provano. Primofero, rimbalzone di Castelluccia. Voleva servire Polonara, ma alla fine l'ha tirata sul piedi all'avversario. Adesso vediamo se ricorrono a fallo sistematico, però... Direi a 58 secondi dalla fine. Più 13, Corsa Volpino. Forza Trachi. Forza Trachi. Uno degli ultimi carichi eccezionali da trasportare al di là della metà campo. Esatto. E Manofredda dalla linea di Carità. Non viene fischiato. Nessun fallo. Molto bene. Tutti larghi adesso. Cinque posizioni. Tutti larghi. Bardolucci non è dell'idea. Si gioca fino alla fine. Trachi si prende questo tiro ventrale. E mette la tripla! Per il 72-56. Le ultime fatiche. Le ultime fatiche. Palleggio. Passaggio per Gelli. Secondo ferro. Spinta da sotto. Appoggia in semiganzo. Molto bene. Ormai l'ultimo attacco per il Corsa Volpino. Si conclude così con una vittoria del Corsa Volpino. 72-58. Io direi di salutare i nostri telespettatori. E diamo l'appuntamento alla prossima partita con le Eagles Bologna. Un saluto da Gio Manfrini. Vi ringrazio tutti e buona partita. Vi ringrazio tutti e buona partita.